Rossella raddrizzò il bambino e cercò di calmarlo tenendo la mano nel punto dove era nascosto il portafogli e ringraziando Dio che Melania avesse un bimbo in fasce. Sentiva al piano superiore pesanti scarponi scalpicciare sul pavimento, sentiva i cassetti gettati sul pavimento, lo strepito delle porcellane e degli specchi infranti, le maledizioni perché non si trovava nulla di valore. Dal cortile giunsero grida prendili non falli scappare e lo schiamazzo disperato delle galline, delle anatre e delle oche sussultò sentendo un grugnito doloroso che fu subito acquetato da un colpo di pistola e comprese che la scrofa era morta. Maledetta Prissi era scappata via lasciandola se almeno i maialini fossero salvi e se la famiglia avesse raggiunto la palude ma non vi era modo di saperlo. Rimase tranquilla nel vestibolo mentre i soldati si agitavano intorno a lei gridando e bestemmiando. Le dita di Wade stringevano terrorizzate la sua gonna e la sentiva quel corpicino scosso da un tremito ma non aveva la forza di parlargli per rassicurarlo. Nei riusciva a rivolgere una parola agli Yankees sia pure di lamento, di protesta o di collera. Poteva soltanto ringraziare Dio perché le sue ginocchia continuassero a sorreggerla perché il suo collo era abbastanza forte da permetterle di tenere la testa eretta. Ma quando un gruppo di uomini barbuti discese la scala portando un vero assortimento di oggetti rubati e fra le mani di uno di costoro ella vide la sciabola di Carlo allora gridò quella sciabola era di Wade era stata di suo padre di suo nonno e Rossella l'aveva regalata al piccino per il suo compleanno. Ne avevano fatto una vera cerimonia e Melania aveva pianto lacrime di orgoglio dicendogli che doveva crescere per essere un soldato coraggioso come suo padre e suo nonno. Wade era molto fiero di questa sua proprietà e spesso si arrampicava sulla tavola di sopra della quale era sospesa per accarezzarla. Rossella poteva sopportare di vedere la propria roba uscire dalla casa fra le mani odiose di quegli stranieri ma non questo questo era il vanto del suo bambino. Wade soguardando dalle pieghe della gonna al suo grido trovò la forza di mettere una parola in un singhiozzo se stendendo la mano gridò mia non potete prendere questo gridò Rossella tendendo anche lei la mano non posso soghignò il piccolo soldato che la teneva sicuro che posso è la spada di un ribelle no non lo è è una spada della guerra messicana non potete prenderla è del mio bambino era di suo nonno oh capitano esclamò al sergente vi prego fatemela restituire il sergente soddisfatto della promozione si avanzò di un passo fammi vedere quella spada ragazzo disse riluttante il piccolo cavalleggero gliela forse all'impugnatura dorma siccio disse il sergente la osservò la mise contro il sole per leggere l'iscrizione che vi era incisa al colonnello guglielmo r hamilton decifrò dal suo stato maggiore per il suo valore buonavista 1827 oh signora anch'io ero a buonavista davvero fece Rossella freddamente sicuro e vi assicuro che ci faceva caldo non ho mai visto in questa guerra una battaglia come quella dunque questa spada era del nonno di quel ragazzino sì allora bisogna lasciargliela disse il sergente che era abbastanza soddisfatto per i gioielli che avevano dati nel fazzoletto ma è d'oro massiccio obiettò il soldato gliela lasceremo per nostro ricordo il sergente soggino oh penserò io a lasciarglielo un ricordino replicò il cavalleggero Rossella prese la spada senza neanche ringraziare perché avrebbe dovuto ringraziare quei ladri che le restituivano ciò che era sua proprietà tenne la spada stretta al petto mentre il piccolo cavalleggero discuteva col sergente Rossella cominciava a respirare non aveva sentito parlare di incendiare la casa non le avevano detto di andarsene perché volevano a piccare il fuoco forse forse gli uomini rientrarono nel vestibolo e discesero dal piano di sopra c'è qualche cosa chiese il sergente un porco qualche pollo e poche anatre un po di grano di patate dolci di fagioli quella strega che abbiamo visto a cavallo deve aver dato l'allarme scavate sotto la dispensa di solito è lì che nascondono i valori non c'è dispensa e nelle capane dei neri solo del cotone lo abbiamo incendiato Rossella rivide le lunghe giornate ardenti nel campo di cotone sentì nuovamente il tremendo dolore alla schiena e alle spalle tutto in vano il cotone era distrutto non siete molto provvista e signora il vostro esercito è già stato qui prima rispose la freddamente infatti eravamo in questi paraggi nel settembre disse uno degli uomini rigirando tra le mani qualche cosa me ne ero dimenticato Rossella vide che era il ditale d'oro di Elena quante volte lo aveva visto brillare mentre Elena lavorava ed eccolo nella mano callosa e sudicia di uno yankee e fra breve sul dito di una donna yankee che sarebbe stata fiera di usare una cosa rubata il ditale di Elena Rossella chinò la testa perché il nemico non la vedesse piangere e le sue lacrime caddero sul capo del piccino come attraverso una nebbia vide gli uomini muovere verso la porta udì i comandi del sergente se ne andavano e tar era salva ma tormentata dal ricordo di Elena non riuscì ad essere contenta il rumore delle sciabole degli zoccoli le diede scarso sollievo ed ella si sentì improvvisamente stanca e abbattuta mentre la pattuglia percorreva il viale tutti gli uomini carichi di oggetti di vestiario coperte quadri galline anatre e la scrofa alle sue narici giunse un odore di fumo ed ella si volse troppo stanca per preoccuparsi del cotone attraverso le finestre aperte della sala da pranzo vide il fumo alzarsi pigramente dalle capanne dei neri era il cotone che ardeva il denaro delle tasse e parte del denaro che doveva aiutarli a trascorrere quel terribile inverno non vi era nulla da fare solo guardare aveva visto altre volte ardere del cotone sapeva come era difficile spegnerlo anche con l'aiuto di parecchi uomini grazie a dio il quartiere degli schiavi era abbastanza lontano dalla casa e non vi era vento che portasse le scintille sul tetto di tara a un tratto balzò in piedi rigidita fissando con orrore l'estremità del vestibolo dove sboccava il passaggio coperto che conduceva alla cucina da qualche parte veniva del fumo posò un attimo il bambino si liberò dalla stretta di wade balzò nella cucina piena di fumo indietreggiò tossendo con gli occhi pieni di lacrime entrò di nuovo tenendosi la gonna contro il naso la stanza illuminata solo da una finestrella era quasi buia il fumo era talmente denso che non si vedeva nulla attraverso però udiva il crepitio delle fiamme cercando di ripararsi gli occhi con la mano scorse sottili lingue di fiamme che dal pavimento correvano verso le pareti qualcuno aveva sparso per la stanza i pezzi di legno che ardevano nel focolare e il pavimento di legno di pino si stava bruciando rapidamente tornò di corsa nella sala da pranzo e afferrò un grosso tappeto facendo cadere con fracasso due sedie oh non riuscirò a spegnerlo dio dio se ci fosse qualcuno per aiutarmi tara è finita finita dio dio ecco che cos'era il ricordo che le aveva lasciato quel farabutto avrei fatto meglio lasciargli la spada riattraversando il vestibolo vide suo figlio giacente nell'angolo con la sua spada aveva gli occhi chiusi e il suo visino aveva un'espressione di pace indicibile dio mio è morto morto di paura pensò con angoscia ma balzò al secchio d'acqua che era sempre nel corridoio immerse nell'acqua all'estremità del tappeto e trattenendo il respiro penetrò nuovamente nella stanza piena di fumo sbattendo la porta dietro di sé due volte le sue lunghe gonnelle presero fuoco e della spense le fiamme stringendole tra le mani sentiva l'odore dei suoi capelli che ardevano perché le forcine erano cadute le tre ce le ondeggiavano sulle spalle le fiamme correvano intorno a lei verso i muri del passaggio coperto serpenti rossi che si contorcevano e balzavano vinta dall'esaurimento comprese che non vi era più speranza l'uscio si spalancò e il soffio d'aria fece balzare le fiamme più in alto mezzo accecata rossella vide melania che calpestava le fiamme le batteva con qualche cosa di oscuro e di pesante la vide vacillare la sentì tossire vide il suo corpicino agitarsi per un'altra eternità lottarono fianco a fianco e rossella vide che le strisce di fiamme diventavano più brevi a un tratto melania si volse verso di lei e con un grido la percosse violentamente tra le spalle poi rossella cadde in un vortice di fumo e di oscurità quando riaparse gli occhi era coricata nel porticato posteriore col capo posato sulle ginocchia di melania sul volto brillava il sole pomeridiano le capanne degli schiavi erano a volte indense nuvole di fumo e l'odore del cotone che bruciava era intollerabile rossella vide nuvolette di fumo levarsi anche dalla cucina e fece per alzarsi freneticamente ma fu respinta dalla voce tranquilla di melania resta coricata cara il fuoco è spento rimase quieta per un momento sospirando di sollievo con gli occhi chiusi e udì accanto a sé il gemito sottile del piccino e il rassicurante singulto di wade non era morto grazie a dio ha perse gli occhi e guardò melania aveva i riccioli bruciacchiati il viso nero di fuligine ma i suoi occhi brillavano di eccitazione e la bocca sorrideva sembri una nera mormorò rossella riappoggiando il capo sul morbido guanciale e tu uno spazzacamino perché mi hai battuta perché avevi il dorso in fiamme non pensavo che saresti svenuta benché oggi tu ne abbia sopportate abbastanza da far morire chiunque sono tornata indietro appena ho messo tutto in salvo nel bosco mi sentivo morire sapendoti sola qui col piccolo ti ti hanno fatto male se intendi che mi abbiano violentata posso assicurarti di no ed emise un gemito mentre tentava di sollevarsi a sedere il grembo di melania era morbido ma il pavimento del porticato era tutt'altro che comodo ma hanno rubato tutto tutto abbiamo perduto tutto ma perché hai quell'aria contenta perché ci siamo ancora noi una per l'altra e abbiamo i nostri bimbi e un tetto e nessuno il giorno d'oggi può sperare di avere di più dio mio bo è bagnato immagino che avranno rubato anche i suoi pannolini di ricambio ma che diamine ma che c'è nelle fasce rossella spaventata ficcò la mano tra le fasce del piccolo e trasse il portafogli per un attimo lo guardò come se non l'avesse mai visto poi cominciò a ridere a ridere di un riso isterico nessun altro sarebbe stato capace di pensarlo esclamò e gettando le braccia al collo di rossella la baciò sei un vero genio rossella si lasciò abbracciare perché era troppo stanca per lottare perché le parole di lode erano un balsamo per il suo cuore e perché nella cucina piena di fumo aveva provato un immenso rispetto per sua cognata e uno stretto senso di cameratismo bisogna ammettere disse frasseri muginando che è sempre presente quando c'è bisogno di lei 28 il freddo giunse improvviso soffi gelidi si insinuavano nelle fessure delle porte scrollavano le finestre sconnesse con un cigolio monotono le ultime foglie cadevano dai rami nudi solo i pini rimanevano vestiti freddi e neri contro il cielo pallido le strade rosse erano indurite dal gelo e la fame cavalcava sul vento attraverso la georgia rossella ricordò con amarezza la sua conversazione con la nonna fontaine come le sembrava lontano quel pomeriggio di due mesi fa in cui aveva detto che tutto il peggio le era accaduto invece prima della venuta degli uomini di sherman ella aveva la sua piccola riserva di viveri e di denaro aveva dei vicini più fortunati di lei e un po di cotone che l'avrebbe aiutata ad arrivare alla primavera ora il cotone era bruciato i viveri scomparsi il denaro inutile perché non si poteva comprare nulla e i vicini in condizioni peggiori delle sue almeno lei aveva salvato la mucca e il vitello e i vicini non avevano se non quel poco che erano riusciti a nascondere nei boschi e nel terreno fair hill la casa dei tarleton era stata bruciata dalle fondamenta la signora tarleton e le quattro ragazze abitavano nella casa del sorvegliante anche la casa dei monroe presso lovejoy era stata distrutta l'ala di mimosa costruita in legno era stata bruciata solo le grosse mura del corpo principale avevano resistito aiutate dall'opera frenetica delle signore fontaine e delle loro schiave che si erano affannate con coperte bagnate a spegnere le fiamme la casa dei calvert era stata nuovamente risparmiata per intercessione di hilton il sorvegliante yankee ma non vi era rimasto un capo di bestiame un pollo un pugno di gran turco per tara e per tutta la contea il problema era il vitto la maggior parte delle famiglie non aveva che il residuo del raccolto di patate dolci e di pistacchi e quel po di selvaggina che si poteva catturare nei boschi e ciascuno divideva quello che aveva con gli amici meno fortunati ma ben presto non vi fu più nulla da dividere a tara si mangiavano conigli sarighe e pesce gatto quando porco era fortunato gli altri giorni l'alimentazione consisteva in poco latte noci ghiande abbrustolite e patate dolci erano sempre affamati rossella aveva l'impressione di vedere continuamente mani tese occhi supplichevoli quella vista la faceva impazzire perché anche lei era non meno affamata ordinò di uccidere il vitello perché consumava troppo latte e il giorno in cui mangiarono carne a volontà ebbero tutti quanti l'indigestione si poteva uccidere un maialino ma rossella rimandava di giorno in giorno aspettando che fossero più grossi uccidendole adesso vi sarebbe stato troppo poco da mangiare mentre più tardi avrebbero rappresentato una buona quantità di carne e di grasso la sera rossella discuteva con melania sull'opportunità di mandare pork fuori dalla regione con un po di denaro a cercare se fosse possibile comprare dei viveri ma il timore che potessero confiscagli il cavallo e rubargli i quattrini le tratteneva non si sapeva dove erano gli yankees potevano essere a mille miglia di distanza o subito al di là del fiume una volta rossella disperata pensò di andare lei stessa in cerca di vivere ma i clamori isterici di tutta la famiglia paurosa degli yankees la indussero ad abbandonare il progetto pork si assentava a volte fino alla sera rossella non gli chiedeva mai dov'era stato certi giorni tornava con un po di cacciagione altre volte con qualche pannocchia di gran turco con un sacchetto di piselli secchi portò anche un gallo che disse di aver trovato nei boschi la famiglia lo mangiò con piacere misto a un senso di rimorso perché tutti sapevano che pork lo aveva rubato come aveva rubato i piselli e il gran turco una sera poco tempo dopo bussò alla porta di rossella quando tutti quanti già dormivano e le mostrò timidamente una gamba crivellata di pallini mentre la padroncina lo fasciava spiegò goffamente che mentre cercava di entrare in un pollaio Fayetteville era stato scoperto rossella non gli chiese di chi era il pollaio ma gli accarezzò dolcemente la spalla con le lacrime agli occhi i neri erano irritanti qualche volta a volte ma la loro fedeltà era impagabile e anche la loro dedizione ai padroni bianchi che li spingeva ad arrischiare la vita per procurare dei viveri per la loro tavola in altri tempi i ladrocini di pork sarebbero stati una cosa molto seria che probabilmente avrebbe richiesto una buona frustata Elena le aveva sempre detto ricordati che tu sei responsabile del morale come del benessere fisico degli schiavi che dio ha affidato alla tua cura devi pensare che sono come dei bambini e come ai bambini bisogna sempre dar loro il buon esempio ma ora rossella non ebbe cuore di rimproverare il nero fedele il fatto di incoraggiare il furto non le pesava sulla coscienza che d'altronde non era mai stata troppo severa e dispiaco soltanto che fosse stato ferito devi stare attento pork non ti vogliamo perdere che cosa faremo senza di te sei stato buono e fedele e quando avremo denaro ti comprerò un bello orologio d'oro e ci farò incidere sopra un versetto della bibbia pork scivolò fuori dalla camera e della rimase pensierosa era stupita che la vita fosse oggi così semplice mentre una volta tempi passati e lontani era piena di complicazioni vi era stato il problema di conquistare l'amore di ashley e di tenersi attorno una dozzina di spasimanti rendendoli infelici e piccole mancanze di contegno da nascondere ai genitori amiche gelose da placare abiti da scegliere ora la sola cosa che importava era il poter mangiare a sufficienza per non morire di media vestirsi in modo da ripararsi dal freddo e avere un tetto che non vacillasse troppo in quei giorni rossella cominciò ad avere un incubo che poi la ossessionò per degli anni era sempre lo stesso sogno i cui particolari non mutavano ma che la spaventava ogni volta di più e il terrore la tormentava anche quando era sveglia ricordava benissimo gli incidenti del giorno in cui il sogno le era apparso per la prima volta pioveva da una settimana e la casa era piena di freddo e di umidità i ceppi nel cammino erano bagnati e fumosi e davano poco calore non si era mangiato nulla dopo la colazione consistente in poco latte perché la provvista di patate dolci era esaurita e le trappole e le reti di pork non avevano procurato niente bisognava decidersi a uccidere un porcellino se si voleva avere qualcosa da mangiare visi tirati e affamati bianchi e neri la fissavano chiedendole con gli occhi di provvedere un po di cibo bisognava decidersi a mandar via porca cercare di comprare qualcosa e per di più c'era wade col mal di gole la febbre e non vi erano medici né medicine affamata e stanca di vegliare il bimbo rossella lo aveva affidato a melania e si era gettata sul letto per fare un sonnellino coi piedi gelati si voltava e rivoltava senza riuscire ad addormentarsi pensava ripensava che devo fare a chi rivolgermi non c'è nessuno al mondo che possa aiutarmi perché non vi era una persona che la sollevasse da quel fardello troppo pesante per lei e con questi pensieri cadde in una sonnolenza irrequieta si vide in un luogo sconosciuto denso di nebbia sicché non distingueva nulla un palmo di distanza sotto i piedi la terra era ineguale una landa silenziosa in cui ella era smarrita atterrita come un bimbo nella notte aveva freddo e fame avrebbe voluto gridare ma non poteva nella nebbia erano cose o esseri che stendevano le dita ad afferrarle le gonne per trascinarla dentro la terra che tremava mani silenziose irrequiete spettrali eppure sapeva che al di là di quell'atmosfera opaca vi era un rifugio un porto dove avrebbe potuto riparare al caldo ma dov'era sarebbe riuscita a raggiungerlo prima che le mani la trascinassero entro le sabbie mobili e improvvisamente si fermava a correre per entro la nebbia come una pazza urlando lanciando avanti le braccia senza afferrare altro che aria e nebbia umida dov'era il rifugio c'era ma non riusciva a trovarlo lo sgomento le faceva piegare le ginocchia la fame la faceva svenire lanciò un grido disperato e si svegliò per vedere chino sopra di sé il viso preoccupato di melania che la scuoteva per destarla il sogno si ripete ogni volta che andava a dormire con lo stomaco vuoto e questo avveniva sovente la spaventava talmente che aveva perfino timore di addormentarsi benché continuasse a ripetere febbrilmente a se stessa che non vi era alcun motivo di avere paura nulla eppure l'idea di quella landa nebbiosa la sgomentava tanto che cominciò a dormire con melania la quale la destava non appena i suoi gemiti le rivelavano come ella fosse nuovamente caduta fra le grinfie dell'incubo era diventata magra e pallida la graziosa rotondità del suo viso era scomparsa i zigomi si erano accentuati rendendo più obliqui i suoi occhi verdi dandole un'espressione di gatto affamato in cerca di preda a natale giunse franco kennedy con una piccola pattuglia mandata dal commissariato inutilmente in cerca di grano e di animali per l'esercito era un'orda cenciosa montava su cavalli zoppi e bolsi evidentemente non più utilizzabili per altri servizi come i loro animali gli uomini erano stati rimandati indietro dal fronte di battaglia eccetto franco tutti avevano un braccio un occhio di meno e le articolazioni irrigidite in maggioranza indossavano soprabiti azzurri tolti ai prigionieri yankees e per un breve istante di terrore gli abitanti di tara credettero a un ritorno degli uomini di sherman rimasero alla piantagione una notte dormendo sul pavimento del salotto felici di stendersi sul tappeto di velluto perché da molte settimane non dormivano sotto a un tetto e non avevano avuto giaciglio più soffice della nuda terra e degli aghi di pino malgrado le barbe lunghe e gli abiti laceri erano persone di buona famiglia piacevoli come conversazione e felici di passare la vigilia di natale in una grande casa circondati da belle donne come in altri tempi non vollero parlare della guerra raccontarono enormi panzane per far ridere le ragazze e portarono nella casa nuda e malinconica il primo barlume di gaiezza che vi fosse apparso ormai da tempo sembra quasi di essere tornati ai nostri ricevimenti di una volta vero sussurrò sussele felice rossella sussele era i sette cieli all'idea di avere di nuovo un corteggiatore tutto per sé e non toglieva gli occhi di dosso franco kennedy rossella fu stupita nel vedere che sua sorella riusciva ad essere quasi carina malgrado la magrezza conseguente alla malattia aveva le guance rosse e gli occhi suavemente luminosi deve essergli proprio affezionata pensò con un lieve disprezzo e scommetto che diventerebbe quasi umana se avesse un marito magari quel vecchio chiacchierone di franco anche caroline era già più animata aveva trovato uno dei militari che aveva conosciuto brent tarleton e si trovava con lui il giorno in cui era stato ucciso quindi si ripromise una lunga conversazione dopo cena a tavola melania li stupì tutti cercando di uscire dalla sua timidezza e riuscendo ad essere quasi vivace rise scherzò e fece quasi ma non completamente la civetta con un soldato monocolo il quale ricambiò allegramente i suoi sforzi con stravaganti galanterie rossella comprese lo sforzo di melania la quale oltre ad essere naturalmente timida era lungi dal sentirsi bene rossella fu la sola che la presenza degli ospiti non allietò questi avevano aggiunto la loro razione di pannocchi arrostite di carne secca alla cena di piselli secchi mele al forno e pistacchi che me mi aveva ammannito dichiarando che era il miglior pasto che avessero fatto da parecchi mesi rossella li guardava mangiare ed era inquieta non solo contava i bocconi che mettevano in bocca ma era sulle spine per timore che venissera a scoprire che porca aveva ucciso un porcellino il giorno prima l'animale era sospeso nella dispensa e rossella aveva cupamente assicurato che avrebbe graffiato gli occhi a chiunque ne facesse parola agli ospiti o accennasse alla presenza degli altri maialini nella palude quegli affamati avrebbero divorato tutto il porcellino in un pasto solo e se avessero saputo dell'esistenza degli altri li avrebbero requisiti per l'esercito temeva anche per il cavallo e la mucca e avrebbe voluto che questi pure fossero nascosti nella palude anziché essere impastoiati in fondo al pascolo se il commissario si impadroniva delle loro riserve tara non potrebbe sopravvivere non essendovi in mezzo di sostituirle la cena fu abbastanza gaia gerald seduto a capotavola cercò di rievocare dal fondo della sua mente offuscata qualche cosa dei modi di un padrone di casa con un sorriso incerto gli uomini chiacchieravano le donne sorridevano ma rossella volgendosi improvvisamente a franco kennedy per chiedergli se conoscesse zia pity pet vide sul suo volto un'espressione che le fece dimenticare ciò che voleva dire i suoi occhi avevano lasciato susele e vagavano per la stanza dal volto inespressivo di gerald al pavimento spoglio di tappeti al caminetto privo di ornamenti ai mobili imbottiti in cui erano penetrate le baionette degli yankees allo specchio spaccato sulla console ai punti della parete scoloriti dove erano stati sospesi i quadri prima della venuta dei predoni al servizio da tavola scompagnato agli abiti delle ragazze decenti ma ramendati all'abitino di wade ritagliato in un sacco di farina franco ricordava la tara che aveva conosciuto prima della guerra e nel suo viso era un'espressione di collera impotente egli amava susele voleva bene alle sue sorelle rispettava geraldo e aveva un vero interesse per la piantagione da quando sherman era penetrato nella georgia franco aveva veduto molti spettacoli dolorosi ma nessuno lo aveva colpito come la vista di tara avrebbe voluto poter fare qualche cosa per gli ohara specialmente per susele ma non poteva fare nulla inconsciamente crollava la testa impietosito quando incontrò lo sguardo di rossella vide in esso una fiamma di orgoglio indignato e abbassò in fretta agli occhi un po confuso le ragazze avevano sete di notizie da quattro mesi dalla caduta di atlanta non vi era più servizio postale ed essi ignoravano dove fossero gli yankees che cosa faceva l'esercito confederato che cosa era accaduto ai tanti vecchi amici franco poteva informarle meglio di un giornale essendo parenti o amico di quasi tutti e potendo quindi fornire una quantità di notizie personali per nascondere il suo imbarazzo nell'essere stato sorpreso da rossella si lanciò in un lungo racconto atlanta era stata ripresa ma non valeva più nulla dopo che le truppe di sherman l'avevano completamente incendiata ma credevo che fossero stati nostri a bruciare atlanta la notte in cui partì esclamò rossella stupita o no miss rossella esclamò franco scandalizzato noi non avremmo mai bruciato una città nostra col nostro popolo ancora dentro ciò che voi avete visto ardere erano i magazzini di vivere e di munizioni che non volevamo che cadessero fra le loro mani ma quando sherman entrò in città le case erano ancora in piedi e lui vi acquartirò i suoi uomini ma gli abitanti che cosa ne fece li uccise ne uccise alcuni soghignò il soldato monocolo ma non coi proiettili appena entrato in atlanta disse al sindaco che tutti gli abitanti dovevano abbandonare la città e vi erano vecchi e ammalati che non potevano muoversi e donne che insomma neanche loro si potevano muovere e lui li scacciò ugualmente durante uno spaventoso temporale e quando e quando furono nei boschi mandò a dire al generale wood di andarli a raccogliere una quantità di gente morì di polmonite ma perché non potevano fargli alcun male esclamò melania disse che aveva bisogno della città per far riposare i suoi soldati i suoi cavalli replicò franco infatti vi rimasero sino alla metà di novembre e prima di partire diedero fuoco alla città e distrussero tutto tutto esclamarono le ragazze sgomente sembrava impossibile che la città piena di vita che esse conoscevano coi suoi bei palazzi e i grandi negozi fosse distrutta insomma quasi tutto si corresse frettolosamente franco turbato dall'espressione dei loro volti cercò di apparire allegro perché non voleva affliggere le signore